Romano Fiammata e Angelo P. hanno pubblicato qualcosa in PCD di Gallipoli su Facebook. Romano Fiammata 22 luglio 2016 alle ore 16 e 14 messa a sequestro cautelativo la casa famiglia, Arcobaleno, di Vasto, Abruzzo. Scoperta un'altra casa famiglia privata dove le famiglie italiane, tutte o quasi di stampo liberiste così come è stato politicamente imposto loro di essere, depositano i propri anziani come fossero degli oggetti da custodire in cassette di sicurezza al costo spesso superiore a quello delle proprie disponibilità per poi accorgersi, senza però pentirsene, di averli depositati in luoghi infernali per quello che dovrebbe essere il loro meritato riposo, atteso che invece vengono regolarmente maltrattati e serviziati anche solo se dovessero disturbare il personale dipendente per un bicchiere di acqua in più di quello stabilito perché chiedono loro di vedere gli stessi familiari che li hanno, li depositati proprio perché non hanno più nel tempo e nemmeno i sani principi umanitari di un tempo che si è fatto loro, interessatamente, dimenticare.